E buonasera, buonasera al TG5, siamo qui al Garden Beach e l'episodio di questo giorno è stato a fare, sono 10 ragazzi, sono loro e faccio subito la parola a Fedeli e la torta all'inviato del posto, Fedeli raccontaci l'episodio. Una tragedia avvenuta qui al Garden, è anche detto Giardino Emilio Betti, un episodio di vandalismo, due persone arrivano alle mani, uno muore, è coltellato, gravissimo l'episodio, ma adesso rigiriamo la linea. Sono qui al Garden, l'intervistato è lei, la ragazza, grazie a te, e rovinano il TG, è Paolini, è Paolini, caccia via Paolini, Paolini, Paolini. Stiamo parlando di un problema veramente grave nella società, veramente influente, in maniera specifica al problema e io direi che… Cambia, cambia, cambia. Sì, è stata buona gara, soltanto che negli ultimi 4 giri il team non ha avuto il vero sfido di gara, però siamo andati bene, tutto sommato, non ti dispiace, non ti dispiace. Le qualifiche sono andate bene? Sì, le qualifiche sono andate bene, soltanto che negli ultimi 4 ziri la moto tentennava, la tentennava nelle curve, io cercavo di prenderla, purtroppo non riuscivo comunque sia nel collaudo. Ma ecco, le gomme non andavano tanto bene, ho visto. Sì, le gomme non andavano tanto bene, però comunque sia ho messo del mio, ho messo del pocio, ho provato, ho girato, un secondo in più, un secondo in meno, l'ho giocata. Bocca al lupo, dai. Crepi lupo, grazie.